Ben ritrovati, come sempre vi raccomandiamo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina, di lasciare un bel like, solamente un flash in questa giornata di pioggia, che non è affascinante come un giorno di pioggia a New York, film che mi ha inebriato come tutti i film di Woody Allen, ma siamo qui ovviamente come sempre per parlare di football, come dicono quelli che ben pensano e che ben parlano. Ultima ora, Antonio Conte, abbiamo detto tante volte pista Milan, pista Napoli, allora siamo ben lungi, usando una metafora storica dal barcare il Rubicone, siamo ancora più lontani dal dire il dado e tratto, o come ha scrisse una volta un mio alunno in una verifica, ormai è diventato una sorta di cult, ma vi assicuro che è successo davvero, è stata una delle più divertenti, il dardo e tratto, non è tratto né il dado né il dardo, penso che ancora la telenovela sull'Antonio Nazionale sia ancora molto lunga dal trovare una soluzione. Ad ogni modo, ultima ora, il Chelsea su Antonio Conte. E guarda caso, guarda caso, Radio Kiss Kiss poche ore prima aveva parlato di una brusca frenata nella trattativa tra il Napoli e lo stesso Antonio Conte. Io sono convinto, ma naturalmente la mia è soltanto un'ipotesi, che probabilmente questa trattativa col Chelsea è sicuramente avviata e il presidente De Laurentiis, che non ama per nulla farsi dire di no per l'ennesima volta, avrà certamente trovato questo modo, diciamo così, elegante per fare il teseo della situazione e uscire dal labirinto e dire, giusto appunto, che è il Napoli a frenare per evitare l'ennesima volta di ritrovarsi senza il suo allenatore. Napoli quindi fortissimamente su altri profili, il profilo di Pioli sembra a questo punto quello favorito, il sogno a questo punto potrebbe diventare Giampiero Gasperini, ma attenzione perché non è da escludere con Manna che va a lavorare a Napoli la pista Massimiliano Allegri, anche se io avevo già fatto un video, e lo ribadisco chiudendo questo, non credo che Massimiliano Allegri, con l'ingaggio che vuole tutto, possa andare a Napoli, come disse una volta il grande Totò, ka nisciunefes. Grazie.